Nella mia esperienza, sì devo anche dire pluriannale in merito alla realizzazione di progetti legati ai luoghi comunitari, definisco io, che sono in questo caso luoghi di ristorazione, ovviamente non lavoro solo su luoghi di ristorazione. Quanto interviene il mio approccio progettuale? Io nasco da una scuola che è una scuola di scenografia, quindi parto sempre dal presupposto di considerare gli spazi di accoglienza, non semplicemente come spazi vestiti da arredi, bensì come spazi destinati a rappresentare una realtà, che possiamo anche definire come estremamente scenografica, ma una realtà che precede quello che poi sarà sicuramente l'esperienza di tipo culinario.